Noi ci riuniremo, approfondiremo come gruppo rispetto a un tema che va trattato con il massimo del garantismo. Noi abbiamo già condannato Salvini perché ha sbagliato, perché è stato disumano la gestione degli sbarchi, ha reso clandestini quelli che erano persone che vivono in questo paese, ha reso il nostro paese più insicuro. Altra cosa è la valutazione giudiziaria che non dobbiamo assolutamente fischiare.